e invito Carmine Esposito, questa volta in qualità di responsabile Mare Vivo Regione Campania per un intervento sulle aree marine protette. Grazie. Ahimè eh durante questa mattinata anche se non ho grandi doti di oratore mi vedrete in alcuni panel a causa dell'assenza di alcuni miei colleghi per cause fortunatamente non covid ma comunque non 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 sono riusciti a partecipare questa mattina. Infatti porto i saluti del presidente Dosalba Giugni e del mio amico Pietro Volo responsabile delegato dell'area Salerno e Costiera Malfitana. Mare Vivo vado se posso avere un attimo la presentazione ma giusto per farvi vedere qualche slide che possa eh insomma rappresentarvi quello che noi eh facciamo di bello sul territorio poi andrò un po' a braccio e se c'è il puntatore qui eh funzionante come grazie ok allora Mare Vivo è un'associazione ambientalista che opera in ambito nazionale e internazionale da oltre quarant'anni per la tutela del mare e dell'ambiente in generale eh Nando correggimi se sbaglio qui abbiamo il nostro vicepresidente che risaluto tutte le attività è costituita da un proprio comitato tecnico scientifico formato da docenti universitari ricercatori professionisti esperti dei vari temi che l'associazione tratta eh è articolata secondo le delegazioni territoriali appunto il sottoscritto rappresenta l'area campania è costituita anche dalle varie divisioni quella subacquea quella per i fiumi per le aree marine protette e da ultimo abbiamo la anche la divisione Lega nata grazie a un protocollo di intesa con la Lega Navale Italiana nell'ambito di un progetto avente eh proprio ad oggetto l'inquinamento la riduzione dell'inquinamento marino da microplastiche nostra atavica battaglia tutte le attività che l'associazione svolge mirano ad aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica delle istituzioni di di riferimento verso quel bene prezioso che è il mare le attività riguardano educazione ambientale ricerca scientifica eh sviluppo sostenibile campagne di formazione di informazione e le attività ambientaliste in senso stretto ovvero pulizie di ritorali e fondali tutte queste attività sono svolte sempre con primari enti di ricerca atenei nazionali e internazionali ministerio ministero della pubblica istruzione della dell'ambiente e anche altre associazioni sia territoriali nazionali che internazionali grande soddisfazione negli ultimi anni hanno dato i programmi di educazione ambientale perché abbiamo deciso perché vedono proprio per esempio uno di questi delfini guardiani perché perché vedono proprio come protagonisti i bambini e cercano cerca di il progetto all'obiettivo di aumentare loro la consapevolezza delle norme dell'importanza dell'enorme patrimonio ambientale paesaggistico naturale che il loro territorio possiede e per cercare di invertire la nefasta tendenza all'inquinamento queste sono un po' i nostri le nostre tappe negli ultimi anni la delegazione campana si è articolata con la formazione della delegazione delle isole e via via anche le altre territoriali e provinciali questo è il progetto del fini guardiani come vi dicevo il progetto del fini guardiani vede come obiettivi ragazzi al termine del del corso i ragazzi saranno delle vere e proprie sentinelle del mare in grado di svolgere attività di monitoraggio o anche delle segnalazioni presso gli uffici marittimi competenti gli uffici competenti della capitanderia di porto perché riconoscibili grazie proprio ad una matricola grazie a un protocollo di intesa che abbiamo instaurato con loro spesso hanno trovato anche fonti di finanziamento in ambito di progetti di ricerca o europei e quindi abbiamo siamo riusciti a svolgere anche una funzione eh di impatto sociale di inclusione sociale in quanto i nostri operatori i volontari educatori sono riusciti ad avere un ristoro per le energie e per il tempo spesi abbiamo raggiunto numerosi migliaia di istituti scolastici su tutto il territorio italiano e devo dire ha dato grande soddisfazione poi abbiamo svolgiamo spesso anche visite didattiche con diverse fondazioni entità del territorio tra cui il museo del mare ma anche il museo Darwin Dorn con il quale quest'anno abbiamo avviato diverse visite didattiche e diversi laboratori che hanno dato dei risultati straordinari poi ci sono le pulizie dei litorali e dei fondali come vi dicevo poc'anzi lungi da noi voler risolvere il problema dell'inquinamento marino in questo modo ma sono molto molto utili per cambiare per cercare per cercare di invertire di educare la popolazione la cittadinanza verso comportamenti più diligenti più rispettosi dell'ambiente siamo riusciti a cambiare come diceva poc'anzi anche la dottoressa de Martino è vero il comportamento di tante piccole comunità come per esempio quella dei pescatori o dei balneari questi sono progetti che voglio citare poi vado vado alle conclusioni questo è un progetto nato pre covid che poi è stato completamente switchato in in modalità online e che prevedeva la formazione di giovani della costiera amalfitana di ragazze della costiera amalfitana ad adottare insomma li formava come eh gli insegnava buone pratiche per il turismo sostenibile quindi per cercare di svolgere un turismo diverso da quello tradizionale e quindi di cercare di orientare i turisti verso un turismo più sostenibile più rispettoso dell'ambiente devo dire che ha dato davvero risultato straordinario e molti giovani hanno anche trovato impiego lavorativo al termine di questa iniziativa quest'anno e concludo possiamo registrare questo è un altro progetto salveamo rettuno eh una pulizia territoriale e fondale attraverso dei mezzi elettrici organizzato sulle isole di rischi e procida eh nel corso degli ultimi due anni finanziato da fondazione con il sud quest'anno volevo concludere abbiamo raggiunto risultato risultati straordinari grazie all'approvazione della legge salvamare ma come già anni scorsi anche la legge che vietava l'utilizzo di cotton fioc di plastica e non biodegradabili la legge salvamare che da anni combattevamo per l'approvazione ovviamente è stata un po' dopo un ping pong tra senato e camera è stata anche un po' modificata però comunque rappresenta un passo in avanti verso il cambiamento quindi siamo molto contenti di questo pensate che prima della legge salvamare pescatori natanti che recuperavano a vario titolo materiali plastica dal mare non potevano trasportarla a terra perché illegale quindi grazie alla legge salvamare oggi questo è possibile grazie alla legge salvamare oggi progetti come anche quello della dottoressa di martino possono trovare possono continuare ad esistere e siamo convinti perché abbiamo visto degli studi davvero i premonitori di una grande crescita che questo materiale poi che viene destinato al riciclo e al riutilizzo è stato anche valorizzato da tante imprese che lo riutilizzano nei loro cicli produttivi per creare generare nylon indumenti indumenti come diceva poc'anzi la eh dottoressa la la relatrice di indumenti e anche costumi fino anche costumi da bagno quindi è nata una vera e propria economia intorno a questo i prossimi obiettivi sono quello di sono quelli ovviamente di crescere nell'ambito dell'educazione ambientale e della ricerca scientifica siamo fermamente convinti che avvicinare i giovani i nostri giovani quanti più giovani possibili a questi temi a questi argomenti possa essere possa determinare davvero la possibilità eh l'avvio del cambiamento dobbiamo insegnare loro che lo studio l'applicazione sono mezzi strumenti necessari importanti per rispondere in maniera rilevante ai cambiamenti climatici e al e quindi generare il vero cambiamento grazie grazie